Riccardo, ma per strada cos'è la cosa più frequente che ti chiede in questo momento il tifoso del Bari? Secondo te che ti chiede? La maglietta sicuro. Facciamo la seconda cosa. Avevi dei dubbi. La felpa, no? Avevi dei dubbi. Ora ti chiederanno la felpa. La chiedono a me, anche se non sono un giocatore. Figurati, Riccardo. Alcuni amici di squadra me lo chiedono sempre. Ma come mai qua la prima cosa che dicono? E la maglietta? Tu cosa rispondi? No, è l'attaccamento alla maglia.